ragazzi penso di essere arrivato a quel punto della mia vita in cui ho perso totalmente l'ucidità mentale e cerco aiuto adesso non prendete questa cosa come vera al cento per cento e assodata e si può sembrare che io ho comprato non uno ma ben due lotti di carte però non ho un problema di acquisto compulsivo inerente a giochi di carta convenzionabili mettere mai in questo video come si può vincere abbiamo non tre ma bene cinque deck box pieni di roba grossa più grossa di quello dell'altra volta quindi caos impara la prossima volta a inviamme roba più bella poi abbiamo un bell'albumone pieno di roba molto interessante team molto probabilmente pieni comuni però rispetto all'altra volta dove dovevo monetizzare a questo giro non ve lo faccio vedere e poi uno scatolone fantasia con tutto però c'è ragazzi vi giuro c'è veramente di tutto ovviamente il pacco è stato già aperto perché dovevo controllare che ci fossero delle carte prima di pagare ovviamente ma prima di tutto ragazzi vi ricordo che se volete convertire le vostre carte di yugi magic e pokemon in denaro sonante vi ricordo che qua sotto in descrizione c'è il mio instagram scrivetemi li mandatemi delle foto e nel caso se ne può parlare inoltre se volete supportare questo canale perché i contenuti vi piacciono vi basta solamente iscrivervi e mettere mi piace poi per i più fedeli qua sotto in descrizione c'è anche twitch follow atemi buttate il prime le solite cose detto questo io andrei perché mi sa che c'è un po di roba da vedere prima di andare ai deck box e agli album io partirei con lo scatolone fantasia perché secondo me può dare gioia e partiamo con questo team allora vediamo che cavolo ci ha mandato e speriamo in roba buona nel pratico allora fodre leviamo allora abbiamo un pancratopo un richiamo ultra carino poi volta aspettate questa roba interessante considerando lo strutturo abbiamo roba dark world che però è un po andata anche se comunque poteva essere interessante considerando lo strutturo di novembre se non sbaglio che abbiamo tre snow poi abbiamo graffa abilità nucleo tributo una forza riflessa da i gld vabbè poi anche roba fedele beh dai roba interessante considerando i formati eh l'unica cosa è che non vedo niente max rarity quello poteva essere molto interessante però vabbè alla fine anche una lila super è sempre ben accetta come anche le ricariche gold eh parlato di ricariche gold adesso sono tornate comuni bellini draghi del giudizio che stanno a un euro attualmente vabbè carica tifone di nuovo la roba dark world abbiamo tre graffa e vabbè penso che il resto sia inutile comunque partiamo benino eh peccato un po per le condizioni ma vabbè ci posso stare andiamo avanti abbiamo vabbè un po di paltina perché tanto stilotti sono sempre così poi abbiamo dai beh una system down carina proibizione anche per edison barbar gold che ok io so un feticista delle carte da 2a quindi per me questa è tutta merda poi abbiamo viaggio condiviso secret bellino stregone del caos per got roba got token arcidamone dominatore dei pensieri per edison con la scritta blu di durist league poi uh bello durenda l'ultimate in prima vediamo in che condizioni è non capisco sembra ah si c'ha una piega si vede poco ma c'ha una piega peccato se no era una bella carta poi abbiamo risucchio dell'anima michael arcidamone dragorovente vabbè sincro x a caso igoyo che ce n'ho un'infinità poi eraldo della perfezione uh bello questo garlandolf tanta roba pur in prima vediamo in che condizioni è anche questo non è malvagio come carta è un buon ex abbiamo gran soil ha visto secondo me tempi migliori roba common antico drago fatato da ct6 molto bellino peccato che rovinato poi mirmeleo roba a caso un serpente sinistro sempre per got poi abbiamo incanato giarpia anche questo è molto bellino il problema che è tutta roba rovinata quindi boh se venderà mai poi come altre ulti abbiamo eliminando la lega molto bellina abbiamo un tributo esplosivo un arrestato per sbaglio diamato e diamato gamma ultra questa è bellina come carta vabbè ho confidato in un play set ma ho forse chiesto troppo campagna cosmo molto bella questa è da recuperata pack troppo bello scambio dello spirito questa buona per castrilla più avanti quando esce foton hypernova vabbè ma ne riparleremo poi abbiamo la grandiosa torre del libro di magia la secret a caso sentinella e la magi legna e partiamo veramente arde c'è roba molto interessante poi poi andiamo con un altro mu c'è anche qualche carta di magic nel mezzo allora allora vediamo se qua c'è qualcosa o questo è proprio il mucchio di merda fumante che ogni tanto ci deve essere si cavolo questo è proprio l'incredibile pacco di merda fumante ragazzi non ve le faccio neanche vedere è una perdita di tempo allora andiamo avanti perché qua confido in questa o ci siamo giocati tutta la roba vada subito potrebbe capitare allora allora bene se non vedete nient'altro da adesso in poi vuol dire che non c'era niente ragazzi per vostra ma soprattutto mia sfortuna il resto era praticamente tutto common c'era qualche foil c'era qualche common umana per i formati ma nel senso è inutile anche farvele vedere c'era roba come proibizione i gadget i fedeli i lightsworm qualche virus adesso andiamo a un'altra cosa che probabilmente skipperò nel video ovvero questi adesso vi faccio vedere più o meno di cosa stiamo parlando eh allora uno due e tre e no non sono foil belle o ultra caso nel senso roba da mp22 poi ci dovrebbe essere dama bode pote adesso le controllo e poi vi faccio sapere ragazzi lasciamo sta era tutta tutta immondizia soprattutto perché è roba che io ho aperto in grandi quantità quindi non so neanche dove metterla adesso andiamo con qualcosa di succoso e di bello voilà guardate ragazzi qua c'è c'è tanta roba eh io partirai già dalla seconda pagina perché la prima me la vorrei tenere per dopo ci sono delle cartine simpatiche che vorrei farvi vedere alla fine poi abbiamo una pseudo collezione di numeri roba onesta piccolina niente di particolare tutto alla minima c'è un numero 14 gold c'è 21 signori della giustizia congelata praticamente merda poi andando avanti abbiamo qua un altro bellissimo xyz che si chiama baby tyragon roba totalmente inutile però c'è un dj in dragon regina che questo è bellino è andando avanti nella ricerca dei soldi perduti qua abbiamo delle carte che possono risultare interessanti tipo questa magi dolci e regina tiramisù e questo scarafaggio branco acciaio che non è ovviamente sì andando ancora avanti in questo disastro di lotto non abbiamo niente nella pagina di sinistra però nella pagina di destra abbiamo della robina che inizia essere interessante ovvero questa citavano i drago rossi di cui uno da ct7 che è onesto non è quello secret però va bene poi questo cannone alabarda ultimate adesso ce n'è anche un ultra qua però senso questo si è messo bene considerando che in prima potrebbe valicchiare un po è vabbè è un ex ex meno però è proprio una bella carta poi andiamo avanti abbiamo la sua versione ultra drago scintilla polvere di stelle dei nova poi delle carte totalmente inutili no aspetta una rosa splendida scusate ragazzi non l'avevo vista bellina per il problema è che anche questa sfondata caso c'è un angolo che ha fatto la guerra in afghanistan vabbè fortuna è anche in seconda fosse stata in prima un po ma avrebbe girato avrebbe fatto girare le palle poi abbiamo vabbè due cartine secondo me molto oneste ovvero l'arci demon dragoteschio nero e quando l'ho visto all'interno dell'otto pensavo fosse ultimate invece era ultra peccato anche questo ex poi l'altra carta è tierra infernoid tierra secondo me è una carta incredibile veramente bella allora vediamo le sue condizioni il front sembra buono è il becco pure un bel nm pure in prima bene bene non roviniamola poi abbiamo carte totalmente inutili guardate che belle valore te le regalo e te ci pago pure altre carte inutili dal valore di zero se ne vogliamo parlare ok che sono immaginiere immaginiere però nel senso no abbiamo poi unicorn necrosof unicorn anche questo bellino però non c'ha un gran valore però ho visto roba molto più simpatica ecco qua diagram adesso non sta quasi a un cazzo però c'è stato un momento nella storia del gioco in cui questa carta valeva mezza piotta porca troia poi abbiamo caos atlantidis che anche questa sta una decina d'euro se non sbaglio perché sono delle carte numero stampate solo in questa terribile gold e quindi non avendo altre reprint sono salite poi abbiamo abbiamo qua un gorzo il resto niente un excalibur da redu che ha visto ovviamente tempi migliori peccato abbiamo una carta che sinergizza bene con il diagram di prima ovvero la vera draco lanciatrice e rimettiamola a posto lo so ragazzi che c'è un fato ultimate qua ma messo troppo male per essere visto poi abbiamo qua dei pezzi d'exodia random delle divinità random e andando avanti vabbè credo ci siamo finiti la roba buona perché si ci siamo finiti la roba buona aspettate ragazzi aspettate qua giù c'è qualcosa abbiamo due graffo che sono onesti poi abbiamo sto strato criceto ulti così per non farci mancare niente io mi chiedo perché hanno fatto questo ultimate come match phantom beast quando potevi fare cosacco che era incredibile va bene abbiamo due pot per gotto che stanno due tre euro se non ricordo male e poi questa materasu ulti in prima che molto bellino non dovrebbe stare attanto anche se questo è ex però è sempre una bella carta ulti adesso vi ho lasciato per ultimo la prima pagina perché c'era una chicchetta incredibile adesso ve la faccio vedere e fatemi sapere cosa ne pensate allora bam allora a parte questi neodraghi fotonici che no aspetta questo è messo bene pensavo fosse messo peggio ok forse mi ricordavo male allora era quest'altro sì a parte questo che ha preso un po un po d'umidità è un po l'altro è messo bene e a parte quest'altro numero 90 cosi occhi galattici che è bellino e sempre a parte numero c 15 che come quell'altro non è stato ripintato numero 46 che è sempre buono abbiamo questo cazzo di numero 92 in prima edizione è veramente bello è veramente bello condizioni nm back ex c'ha qualche puntino qua giù in basso ma che cazzo me ne frega ragazzi è una carta incredibile diciamo che visto dalle foto non sembrava così bello ragazzi adesso andrei coi deck box però non ve ne faccio vedere due ve li faccio vedere tutti e cinque perché qua qua c'è un po di robetta andiamo col primo allora andiamo con il primo abbiamo proxy horse e insieme a tanta roba di ghost from the past 2 vabbè ragazzi stava lì che fai non la prendi poi vabbè roba a teni roba a teni da ots che questa è molto bellina poi abbiamo mappura altri teni altri teni a caso buco trappole lo scavatombe da mp anche se ce n'ho tipo 20 copie poi abbiamo grace paladin dark paladin roba brutta è roba brutta sì mettiamola così sì mamma mia ragazzi tutta roba di ghost from the past allora ci sono dei galaxy soldier questi comunque stanno a un eurino e sono belline come carte eccoli tutti e quattro bellini poi abbiamo up callone roba d'espia roba flanderis da mp roba shadow questa è bellina poi abbiamo zombie world fusione bambola ombra anche una secret e poi due ddd deus machine che l'ho provati su ba e sono incredibili ma poi vi farò vedere una lista andiamo col secondo allora abbiamo anche qua della palta da ghost from the past e della roba di ddd vabbè diciamo che nel complesso c'era una base di ddd però si è spaccata poi altra roba di ddd ghost di ghost from the past poi abbiamo damage polarizer altra roba da ghost from the past brutta c'è roba agent però vabbè e anche roba controllo bottino plunder patrol allora ma dov'è la roba bellina che ho preso? e questa è ancora un pochino di livello basso vorrei tirarvi fuori la roba più onesta allora ghost from the past base salamangrade perché che fai? 20 euro di mazzo non lo prendi? per forza guarda davanti bellino poi adesso dovrebbe uscire un link signet se non ricordo male che funzionerebbe bene qua dentro poi abbiamo altra roba di ddd altra roba shadow roba salamangrade a stufo poi imanju ultra questi sono onesti maximus mardel un'altra mardel poi mech rovina fortezza roba d'espia un altro zombie ward anche questa ottima come carta uno show così per non farci manca niente duel tower roba a caso veramente a caso roba magichiave roba scar soldato presa così a caso faris che anche questi stanno sull'eurino poi abbiamo drago furia chimera tech uno da led uno da pack e uno da ghost from the past almeno così su tutte le versioni poi s39 che ho scoperto stare a zero poi abbiamo app callone l'amico di batman che sta a qualcosina maga nera altra roba lirilusk bestia e niente diciamo che avevo vaghi ricordi di roba più docente forse mi sbagliavo allora andiamo con un'altra po' di roba o abbiamo adesso la roba decente ecco mi sembrava ci fosse abbiamo due nadir da mp così poi tre aleister invocazione poi abbiamo gengis da tin che sono bellini punizione da da tin anche questa non è male che sta sui 3-4 euro winda che costa troppo rispetto a quanto viene usata due nova da ot masquerade da pack che sta a 4 euro io l'ho venduto a 50 centesimi ed era salito a 20 euro poi borrelland un dd che non ci faccio niente perché ha messo il livello 3 e qua dentro non c'è poi abbiamo fleur delis maximus anche questo secret molto bellino schisma titanic land secret che è sceso un botto sta a 4 euro tipo adesso poi meciaba un altro meciaba domestico da battaglia invocato carta di herlaments da 1 euro spettro terra maledetta che è anche questa costicchia poi il sinistro presagio un core di ecclesia così a caso la carta più costosa di esosorella che ancora non mi spiego perché perché 20 euro questa non c'ha senso sotto nessun punto di vista poi roba lirilus decostrutto poi cyber riavvia sistema da cico se non sbaglio ccio secret molto bellina poi abbiamo carta di difo che si è so overprezzata dopo che io l'avevo venduta a 12 euro che era salita tipo a 20 adesso sta a 13 poi abbiamo due infinity e neanche uno da bosch poi abbiamo linking to the brain un enforcer due melee prison ruddy roba rosa nera roba di nuovo di ghost from the past stufo anche troppa roba boh a caso totalmente a caso roba da mp che dovrò caricare roba salamangrate e basta andiamo con l'ultimo e speriamo che non ci siano rimaste solo gli scarti dell'occhio allora abbiamo roba di dd ancora e ancora e ancora e ancora e ancora basta basta la roba di dd mamma mia quanta roba vabbè r è rimasto tutto di dd poi abbiamo il collasso magico e anche sta carta di merda sta un euro l'uno perché c'ha tipo due print ecco la terza meltdown mettiamola via poi abbiamo cose a buffo di alcun valore né collezionistico né competitivo altra roba di ghost from the past e basta fondamentalmente questo poi da tutto questo è rimasta fuori una cartina che ho già spoilerato su instagram quindi se non mi seguite seguitemi lì ed è l'amatissima e bellissima no rai ultime ragazzi scordatevelo maganera ghost ragazzi è pure in inglese è incredibile l'unica cosa è che c'ha un paio di puntini bianchi sull'angolo in alto a sinistra però beh la volevo e fortuna me l'ha lasciata e poi ridendo e scherzando già riccardo del toxic ha tentato di metterci le mani sopra poi vediamo dipende cosa vuole darmi e va bene ragazzi con questo è tutto spero come sempre vi sia piaciuto ragazzi non fate gli ipocriti so che questi video vi piacciono perché sono quelli che vanno meglio non so perché ma avete una perversione nella mia spesa di soldi in carte detto questo ragazzi vi rinnovo nuovamente di mettere like e di iscrivervi quindi ragazzi state mesi e noi ci vediamo quando me va fondamentalmente con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti